che state per osservare è il peggior smartphone mai visto su questo canale non mi riferisco a prestazioni e cose varie in quanto alle condizioni mi riferisco a questo smartphone è un landvo l800 se vogliamo essere chiari è un clone del samsung galaxy s4 infatti avrei voluto fare un video di presentazione di paragone tra questi e magari vero samsung galaxy s4 che mi sarei comprato a breve ma purtroppo è morto prima ancora di poter fare il video cose simili comunque vi faccio una breve presentazione e poi passiamo al piatto forte che è lo smartphone stesso vi mostro che cosa è successo a voi il video è la scatola originale con cui veniva venduto lo smartphone si trova ancora comodamente adesso su internet per soli 80 euro vediamo un po le caratteristiche tecniche ufficialmente abbiamo 512 megabyte di ram e 4 giga di memoria interna 2,62 utilizzabili la fotocamera posteriore da 2 megapixel abbiamo tutto scritto qui ovviamente quella anteriore da 0,3 megapixel registra in vga proprio come tutte le 0,3 mentre quella scusate non ho capito se ho detto quella posteriore o quella anteriore comunque quella anteriore che registra in vga e da 0,3 megapixel mentre quella posteriore anche se è da 2 megapixel registra in solo 640 no non 640 per 480 bensì 960 per 720 quindi un hd che comunque è una soluzione abbastanza buona si può dire dai le foto invece sono da 2 megapixel piene adesso vediamo di passare al al telefono stesso perché qui in effetti ce ne sono delle belle da vedere quindi apro un attimo la confezione magari senza far volare la videocamera in terra eccola qui abbiamo questo slide che è fantastico a mio parere ed ecco qui la confezione originale al telefono ci passiamo subito dopo vediamo prima cosa veniva venduto all'interno meglio cosa vi si trova vi è ancora il manuale originale che ho conservato la batteria da 2000 mAh sono un po' pochi ma forse un po' di più 2300 mAh gonfissima infatti è veramente vecchia come batteria diciamo è stato usato parecchio più che altro qui vi erano anche le cuffie che siccome sono ancora funzionanti non le ho riposte nella confezione passiamo allo smartphone è ancora nel suo l'ho riposto nel suo velo originale adesso vi mostro che cosa è successo a questo smartphone è stato un secondo che è un po' difficile da tirare fuori per via dello scotch che lo tiene insieme e già questo dettaglio vi metterà un po' di timore eccolo qua allora questo è il retro lo vedete molto simile a Samsung Galaxy S4 veramente simile la fotocamera in realtà da Samsung Galaxy S4 mi sembra sia da 16 megapixel se no addirittura da 20 comunque questa è una 2 megapixel e si vede guardate davvero piccola flash led molto buono come flash il processore ha un ARM Cortex di tipo ora non mi ricordo com'era di precisione Mediatek non mi ricordo comunque quad core 1 GHz allora questo è lo speaker comunque passiamo al frontale eccolo qua completamente distrutto perché lo tengo insieme con lo scotch perché altrimenti semplicemente cadrebbe in 19.000 pezzi purtroppo ho avuto un incontro ravvicinato con un martello per causa di me stesso lo ammetto sono stato io volevo testare la sua durabilità perché cambiavo telefono passavo al buon vecchio Mi London se ve lo ricordate ho voluto testare la resistenza ho esagerato anche se ho dato colpi molto molto distribuiti come vedete ho distrutto tutto il display in ogni caso non pensate che io sia pazzo l'ho fatto perché questo non funzionava più semplicemente avevo un problema al vetro il touchscreen aveva smesso di funzionare non c'era modo di ripararlo perché questo è un clone i ricambi erano introvabili quindi se li trovavo praticamente costavano quanto un telefono nuovo di conseguenza ho preferito optare per questo questo è il risultato finale completamente distrutto soltanto le cose funzionano ancora bene gli interruttori queste cose qua ovviamente non funzionano al telefono gli interruttori, i plug funzionano ancora tutti ma il telefono senza batteri oltretutto non funziona più punto morto questo era un video veloce per mostrarvi questo smartphone ovviamente un video così di intrattenimento perché non c'è tanto da vedere non ve lo consiglio come smartphone non ve lo consiglio anche perché spendere 80 euro per questo tanto vale spenderne 60 per un Umi London che ha 1 giga di RAM invece che 512 ha praticamente tutte le prestazioni raddoppiate la videocamera da 8 megapixel mentre questa è una 2 comunque ve l'ho presentato in un video precedente basta che cercate nel mio canale e trovate il video di presentazione mi sembra si chiami facciamo che vi metto il link in descrizione così se volete vedere il video di presentazione dell'Umi London e dell'Umi Max lo trovate qui il video si conclude e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti